Buongiorno, sono la vostra nuova presentatrice del TGLT4Glob, Flash News, Teresa Maria Caputo, che vi riterrà aggiornati. Ora passiamo alle notizie. Cavallino, tre porti. Giovedì 17 agosto 2023, incontro culturale sugli itinerari letterari nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. Una serata di cultura letteraria del territorio alle ore 21 del 17 al centro culturale Manin, Dicà, Savio, A. Cavallino, tre porti. I protagonisti saranno Alberto Pavan e Sergio Frigo, che proporranno un incontro culturale dedicato alla scoperta degli itinerari letterari nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. Il primo ospite è autore di Ciclonglate, sui pedali tra le pagine del Friuli Venezia Giulia. Mentre il secondo, in collegamento da Asiago, è autore dei luoghi degli scrittori veneti, i luoghi di Mario, Rigori. Stern è i luoghi degli scrittori tra Piave e Tagliamento, moderatore. La serata, il giornalista Fabrizio Stelluto. ULS 4 A settembre, la terza edizione del progetto. La città amica delle persone con demenza. Aperte le partecipazioni al concorso itinerario e fotografico. Lo scopo del progetto è sensibilizzare la comunità sui problemi delle persone malate di demenza. ULS 4 è conferenza dei sindaci del Veneto orientale. Lo faranno con un mese fitto di eventi che si svolgeranno in tutto il territorio dell'azienda sanitaria. Dal 21 settembre al 21 ottobre 2023 si svolgerà la terza edizione del progetto La città amica delle persone con demenza. I cui dettagli verranno presentati nei prossimi giorni. Nel frattempo sono aperte l'iscrizione a due dei punti cardinali del progetto. I premi fotografico e letterario, sempre banditi dall'ULTS 4. Il tema del premio fotografico di questa edizione è Lenta, lentamente. Lentamente. Le cui immagini, come prevede il regolamento, devono rappresentare il mondo del malato della demenza. Nella sua vita quotidiana ed il progredire della malattia nel tempo. Le iscrizioni sono gratuite. Due giurie, costituite da esperti in fotografia, in ambito medico-sanitario sociale e letterario, valuteranno le opere ed eleggeranno i vincitori che riceveranno un premio in denaro il 21 ottobre 2023, presso il caffè letterario in piazza Indipendenza a San Donà di Piave. Caorle Comune di Maniago Venerdì 18 agosto 2023, dalle ore 23 alle ore 5 2000 mania, Iesolo, Il Muretto e Il Muretto Padova 13 ottobre alle ore 9 15 ottobre alle ore 22 American Dream 2023, Fiera Padova Martedì 31 ottobre 2023, dalle ore 19.30 alle ore 03 Mistero a Villa Corrier, la più terrificante festa di Halloween, in una vera villa infestata, Villa Corrier, Trieste Domenica 8 ottobre 2023, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 Bar Collana 55, Regata, Velica, Internazionale e Trieste Padova Venerdì 8 settembre 2023, dalle ore 19 Eiffel 65, Futura, Vintage Festival, Offo Parco della Musica Parco della Musica Padova Venerdì 25 agosto 2023, dalle ore 17 Padova, Sotto le Stelle, Visita Serale, Prato della Valle Concludendo questo TG, io vi saluto, a voi telespettatori e vi aspetto alle prossime notizie Grazie a tutti